Una protesta pacifica con tanto di incatenamento in piazza anche di mamme. Dalle 8 di questa mattina i componenti del movimento riscatto con Maurizio Ciacuri in testa stazionano in Piazza del Popolo. Ancora una volta quella che si traduce in una forte azione di protesta ha traslato il presidio del medesimo movimento da Piazza Gramsci in Piazza del Popolo, centro nevralgico della città di Vittoria. Protesta corroborata, come accennato, da un incatenamento collettivo degli stessi promotori e non solo. Crisi agricola, agromafia, aste giudiziarie sono solo alcuni degli argomenti spiegati da Maurizio Ciaculli, imprenditore agricolo e gli stessi oggetti di intimidazioni con la sua azienda agricola ridotta in fumo da un attentato incendiario qualche tempo fa. La problematica nasce da una crisi da 6-7 anni a questa parte e in particolare nel nostro territorio che è una crisi agricola. La caduta dei prezzi, il problema delle virosi, tutti i problemi che attanagliano l'agricoltura nella fascia trasformata tutta, ha creato nella nostra città una macelleria, come la chiamiamo noi, macelleria sociale. Le asse giudiziarie. Le asse giudiziarie però ci ritroviamo con degli articoli di legge che purtroppo sono solo a insintacabile giudizio del giudice. Quindi il legislatore deve, deve per forza modificare questa problematica che è l'articolo 164 bis e poi c'è la nuova legge, la 59 del 2016 che loro hanno fatto. Quindi i giudici non sanno quale applicare o se la applicano la applicano in modo diverso. Vittoria è la città dove è, c'è ancora ad oggi, il mercato ortofrutticolo alla produzione più grande del sud Italia. Quindi c'è una marea di denaro che circola, c'è un problema di mafia. Questo problema di mafia ovvio non è solo al mercato di Vittoria ma è un problema che è in tutta la filiera agroalimentare. E questa crisi che ha messo in ginocchio l'economia ipparina e non solo da circa sette anni non accenna ad allentare la mossa, aggravata anche dal sistema delle aste giudiziarie giudicato deleterio anche da coloro che adesso protestano in piazza. Ancora una volta dunque la protesta parte da Vittoria nel cui territorio si registrerebbe una crescita dell'agromafia, un fenomeno che costa all'intero paese qualcosa come 50 miliardi di euro l'anno. L'amministrazione comunale di Vittoria, unitamente alla presidenza del consiglio comunale, si sono già messi in moto seguendo quello che è il grido d'allarme del settore al fine di trovare soluzioni adeguate.